La gioia dei beati. Figlia mia, nel sangue e per il sangue di Gesù si rallegrano i beati del cielo, come un soldato si rallegra di aver salvato la bandiera dopo la battaglia. E più avranno usato bene in vita di questo grande dono, e più capiranno il meraviglioso dono della redenzione. Chi in vita avrà offerto il suo sangue per testimoniare la fede, e chi avrà portato sul proprio corpo i segni della passione di Gesù, avrà una gloria particolare. Gesù, sole divino, glorificherà coloro che unendo il loro sangue al suo, avranno completato in sé ciò che mancava alla sua passione contribuendo in tal modo alla salvezza di tutti. La croce di salvezza che, imporporata dal sangue di Gesù, è divenuta emblema dei cristiani, avrà la sua definitiva glorificazione nel giudizio finale dei popoli, e chi avrà portato per amore di Dio la croce della sofferenza sarà glorificato per l'eternità. In un rinnovarsi di gioie infinite, in un riempirsi di amore purissimo e riflettendo come in uno specchio l'immagine di Gesù, i beati del cielo troveranno continuo motivo di glorificare il suo sangue prezioso. Dirai oggi, sangue di Gesù, santificaci e rendici degni della gloria eterna.